Salve a tutti ragazzi, io sono Prince168 e questo è il mio primo video ed è anche il mio primo video commentari LOL Sì, siamo qui appunto con GT4 Perché sto usando il computer? Ed è un commentary in live Quanto è meglio? Comunque dicevo, un commentary in live Cioè che, insomma, come potete vedere, non è che il primo registrato e poi ci mette il mio commento, aia tassista Seriamente, spiegatelo Ah, sto continuando a dare il contassista morto, vabbè Ah no, boh Io dicevo, come potete vedere, tutto quello che succede io non lo so, insomma, sto parlando mentre gioco sulla PlayStation 3 Come avete visto Ehm, siamo qua, l'idea è il mio primo video Ehm, assoluto mi presento perché, insomma, è il primo video Io sono The Prince E' un... allora Dico già la verità che io ho un passato youtuber con altri canali che però non sono andati molto bene perché Non... diciamo... non... non facevo i canali come piaceva a me Invece su... su Prince 168 spero che... andrà bene, speriamo Potremmo dire un po' di successo Ma... Sì, insomma, qui siamo su commentari Ehm, comunque dicevo Io sono un... sono un giocatore della PlayStation 3 Perché il mio computer non mi permette di giocare Io non ho un computer da gaming Ehm... Sì, non ho un computer da gaming E quindi uso la PlayStation 3 con una scheda di acquisizione video Mi sape che ho i giochi per la PlayStation 3 Ehm... poi, per dirvi altro Mi chiamo Alessio Ehm... oddio E' da come avrete... non so C'è chi può intuirlo, c'è chi no Ehm... da come si potrebbe capire Il mio gioco preferito... in assoluto E' GTA Cioè, la mia saga preferita di videogiochi è GTA Appunto, appena posto, lo so che sono in realtà Devo andare a correre, a ordinare GTA 5 Proprio, proprio seduta stante C'è altro giochi che mi piacereono Possono... sono un parco del 3 Diciamo che io non ho in... Aaaaah... oddio 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 dio dio dpd ouch Mi è andata di culo Se non vedo le dità, mi è andata senamente di culo non che dicevo non sono un gamer diciamo giochi nuovi da molto perché insomma ho avuto una playstation 3 l'unica console cioè l'unica cosa che mi sono usato i giochi odierni da pochissimo e da giugno e prima di allora avevo solo un computer che faceva scattare privato fiorito ho tuttora questo computer appunto sto registrando con la scheda di acquisizione video con questo computer però il fatto sarà che sono un gamer da poco grazie alla playstation 3 prima usavo solo giochi con minecraft ma proprio con le impostazioni in tutte basse qualche qualche gta vecchio come il 3, il vice city e il san andreas che sono dei signori giochi però non non sono recenti come gta 4 e aia ecco in gta 4 più giocate più odiati tassisti ah 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 se entrappola se entrappola no no aspetta così non va se관 si setup appena finito il gioco le posto per mettere i tutti gli però che la mia automatica e la mia normale vanno cosa 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 prende prende anche il gta 5 risolvono il mio cuore lo spazio scusate non stavo guardando ecco quella li ha pure riso vedrò anche un mucchio di pixel però ho sempre la mia buona ok ecco 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 so che sicuramente questo video non potrà risultare uno dei più divertenti in youtube ma che cosa è la madonna il cofano compra una una presidente ah assisti di merda mi sta guardando un tassista dico oh nooo comunque dicevo so che questo video non può risultare il più divertente non può risultare cioè non può essere il gioco più si il gioco il video più divertente di youtube però eh vi dico già che sto malissimo sto da cani con il caldo che c'è sto da cani yeee yeee yeeea quindi con questo caldo non so che neanche cos'è aia ma perchè 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 ho i trucchi meno male che ah è vero non posso dirvelo eh vabbè attenzione allo spoiler casomai io dico qualcosa voi state attenti aspetta no ragazzi io voglio vedere che cos'è quello qualcosa blu aspetta vedo vedere che cos'è che cos'è che cos'è che cos'era ah ok aspetta l2 e salire in cima all'edificio wow ma non c'è il paracadute non è deballad cosa mi spieghi cosa mi serve salire in cima all'edificio evidentemente la rockstar game prevedeva già un deballad con i paracadute spero mi prendi anche abbastanza per il culo mettendomelo in giro ai quadri normali si ho il limite dei purtroppo 15 minuti grazie youtube sei sempre come sminuire i nuovi derivati è arrivato è arrivato ecco qui quella ewe moncia offerte con la ewe un picciolo picciolo 106 no perciò no perciò wiii 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 ah non è giusto volevo suggerirmi come come zio comanda eh allora comunque altri giochi che posso fare in una probabile serie commentary mela ehm com'è che si dice ehm farcreate 3 e prototype ah sì mi stavo dimenticato di dire quella cosa eh una allora tra 3 2 1 dico uno spoiler eh eh ma penso che si capisce anche quindi se non volete sentire spoiler mandate il video avanti di 10 secondi yeah eh ok lo spoiler inizia sarà 3 2 1 certo che alla fine nico dice oh non voglio più fare casino non voglio uccidere voglio vivere normalmente però poi dopo appena finisce il gioco puoi fare una strage uccidere puliziotti cittadini ucciderti ok ok penso che oh my god dicevo lo spoiler è finito penso no è finito poi nicobellic allora appena una cosa che ho notato è ehm prima di finire il gioco è più incazzato cioè la faccia è più incazzata adesso è più è più calma per quanto questa faccia possa essere calma però sì mi è andato in stand by il il coccoso o altro piccione ma non l'automira altro piccione altro piccione altre strade ah i piccoli 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 aia quanto diamo i tassisti noi fan di gta gta e è ancora vivo ho sentito pur di darla vinta ai ai poliziotti io direi di anzi no facciamo questo mi è andata male ma lo devo fare prima o poi prima o poi rado for the wind yeah chiedo scusa chiedo subito scusa per i 240p ma eh non posso non posso avere altro ecco io dice una cosa che stavo cercando di di fare buttiamo la granata ovviamente ciao perchè è lui il nico belli che è lui perchè io il nico belli che è un duro e i duri non guardano le esplosioni ma non solo con la coda dell'occhio mentre un poliziotto molto ciccione ci sta fissando e noi rilanciamo un'altra granata abbiamo 11 minuti di registrazione quindi banana ok dopo un'esplosione di una granata sono ancora vivi e andiamo a schiantarci contro un palo che è un palo non è cosa del pullman te che ce la fai nico what no 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 new bag gta 4 only for playstation 3 not by gta 4 because it have a bag e il bag is a perfetto no 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 devo fare questo bordo prima di chiedere il video no 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 giù lo sere qui la mia vita non ha più senso si è fatta dall'altra parte ahhh la mia vita non ha più senso se non mi posso si vicino è colpa tua è colpa tua no la fine non è vicino aia uo pfff c'è nico bellix sembra in un mare di melassa quando dai colpi con la mazza da baseball o con aia 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 ma dio santo aia fanno male ok io direi di chiudere qui il video ma per non farvi c'è un'altra cosa cosa succede poi con la polizia faccio così metto così a metto così cos'è cos'è ho detto cos'ù è una persona che dice cos'ù è da stimare quindi cos'ù togli la pistola metti il pugno eeeh per questo video è tutto con lico belli che eeeh frinze frinze scusa eeeh e per tutto è diventato si sgherranocchia eeeh eeeh ciao